Sono vecchietto, eh? No, no, no. È un po' lunghietta, però va bene. Lotito, vi vuoi comprasti i giocatori, sì o no? Lotito, presidente, scusi. I difensori. Noi segniamo tanti gol perché c'è Immobile e tanti altri attaccanti meravigliosi. Ma in difesa servono i difensori, capito? Quelli che difendono in difesa. Forza. Ecco, ecco qua. E' tutto fuori programma, signori, in questa puntata. Garinei 96. E questa adesso te la tieni come la copertina di Venus. Grazie, è un bellissimo regalo.